Buongiorno a tutti i miei allievi, le esprimo la gratitudine dei miei allievi del quadro permanente della scuola. Il mio personale verrà voluto esaltare con la sua prestigiosa e sempre vicina presenza e significato di questa cerimonia. Il mio ringraziamento a me è anche per aver consentito la rinnovazione di questa piazzata. Più consola all'ospitale cerimonia militari e meglio adeguata all'uno dei frequentatori dei corsi, ulteriormente avvenita da questa storica tribuna che con grande generosità ha voluto lanci. Autorità, gentili ospiti, cari familiari, benvenuti nella caserma Eugenio Frate, sede della scuola Lievi Carabinieri di Campobasso. Ci apprestiamo a vivere un momento di esaltante ed emozionante solennità. Una giornata grave per i protagonisti e i miei, che fieri ed orgogliosi nel loro ambito di grande uniforme, attendono che il colletto del loro massimo si conventi con il più prestigioso e di ormai. Simbolo che conferma la loro scelta perpetua di seguire la nostra altissima patria come i carabinieri. E subito dopo in un afflato corale che ne dimostrerà la compattezza, lo spirito di corpo e la consapevole assunzione di responsabilità, essi giveranno credentare le istituzioni davanti alla loro bandiera, la bandiera di istituto della nostra scuola, definitivamente suggerendo il loro volontario offrisi per sempre al dovere e al servizio. Sono mesi di sagra centralità per la vita di un carabinieri, un'assunzione di responsabilità di cui tutti noi, oggi raccogli attorno a loro in una giornata festosamente emozionante, siamo testimoni. centralità che già tra pochi giorni, quando raggiungeranno le stazioni carabinieri per non sfoggere un periodo di chirurgia, verificheranno nella pratica, impattando con la realtà operativa che dividerà nel soggetto leali, fedeli, iscredi, concreti e doverosi protagonisti.